Negli studi di TV City, Cinzia Mirabella, assessora alla nettezza urbana del comune di Torre del Greco, facciamo il punto della situazione di quello che è sempre un settore nevralgico. È sempre un settore tosto, direi, nel senso che è il punto debole di ogni amministrazione perché ha delle fragilità, delle fragilità che, come sempre abbiamo detto, coinvolgono più settori. La politica è sempre in primo piano, ovviamente, accusata forse anche di mancanze, leggiamo spesso critiche sui social e quant'altro, però va anche spiegato il processo perché ha delle mancanze. Delle mancanze che sono dovute molto spesso a zone di Torre del Greco che continuano a non rispettare quelle che sono le regole, quindi continuano a non rispettare il porta a porta, i giorni di conferimento, gli orari. Questo comporta una serie di servizi che devono essere bilanciati, per non gravare su quelle che sono le spese del cittadino, devono essere bilanciati, quindi tolti da quello che è lo spazzamento per poter fare, ovviamente, questi extra che non sono compresi nel nostro contratto. Quindi per far fronte a questi cumuli abusivi si priva il territorio del servizio di spazzamento? Sì, infatti, ci sono strade che sono lasciate purtroppo in una situazione non ottimale per poter sopperire a quelli che sono dei cumuli che diventano anche un problema di viabilità. Ci sono zone di Torre del Greco che conosciamo benissimo, ci sono dei cumuli storici, tant'è vero che abbiamo fatto un progetto obiettivi che coinvolge i vigili urbani, coinvolge la polizia municipale, che possa dare un maggior rinforzo per quelli che sono gli organi di controllo, su questi cumuli abusivi che oramai sono diventati storici e cronici, che portano un cancro a quello che è il settore dell'ANU, perché non si spazza per correre dietro i cumuli e diventa una cosa che è ingestibile. I cittadini lamentano sempre la mancanza di controlli, proprio la mancanza di una presenza sul territorio. Il controllo è un tasto dolente, il personale è sempre carente e non basterebbe mai. Io dico sempre che ci vuole anche tanto senso civico, perché è pur vero che il personale è carente, però quello che c'è continua nelle attività di controllo, tant'è vero che in questi giorni si sta controllando anche coloro che non hanno fino ad oggi pagato la tassa Tari. Si sta scoprendo che sono in tanti e questa è una cosa che dispiace molto, perché ovviamente noi abbiamo un servizio che non è ottimale, ma abbiamo anche dei cittadini che purtroppo non fanno il loro dovere, quindi ribadisco dal pagamento di una tassa, ma anche al deposito dei rifiuti. Guardando ai prossimi mesi, ci sono dei cambiamenti in programma? Ci sono dei cambiamenti, perché noi non ci fermiamo mai. Stiamo verificando con la ditta velia e con gli organi proposti se è fattibile poter rimodulare alcune clausole e anche caratteristiche del nostro conferimento rifiuti. Non vorrei anticipare nulla perché fanno parte ovviamente di un tavolo tecnico che si sta facendo ogni dieci giorni e stiamo avanzando e dovremo essere per fine anno arrivare a una soluzione per alcune critiche problematiche che ci portiamo, potremmo dire, dietro da diverso tempo. Parliamo invece del piano di serbo. È tornato purtroppo il degrado in molte zone della città? L'erba cresce continua, si sa. Dovremmo partire per la metà di novembre con il nuovo piano del diserbo, quindi ritorneremo all'attacco sul nostro territorio, su quelle che sono le zone ovviamente che necessitano. Si è da poco conclusa la distribuzione dei kit per la differenziata, ora il prossimo appuntamento sarà a gennaio. In gennaio avremo la prossima distribuzione dei kit, stiamo procedendo come vuole il capitolato, come vuole ovviamente il nostro regolamento. In conclusione il suo appello alla cittadinanza? Il mio appello è sempre lo stesso, ci vuole ancora molto senso civico, nel senso che dipende anche da noi, non possiamo pretendere di avere un controllo uno a uno di ogni cittadino, quindi io confido sempre nel buon senso e nel rispetto delle regole. Quella è la cosa fondamentale, basilare per poter avere una città più pulita.